Pejo Bilbao e la Caja Rural Seguros danno spettacolo nella seconda tappa del Giro di Turchia 2016 Il corridore basco si è portato a casa un prezioso successo riuscendo a staccare tutti nella salita finale che portava la carovana a Cappadocia Per cos'è con Salves arriva un altro secondo posto davanti a un ottimo Mauro Finetto che fa capire a tutti di avere grandi ambizioni in questa prestigiosa corsa a tappa